Parlavi prima di Istanbul che sei stato lì, che impressione ti ha fatto il calcio italiano che fa tra i finali? Non è riuscito a vincere però portalo tre squadre in finale delle coppie europee. Beh però sono stati competitivi tutto l'anno e arrivare in fondo è una cosa molto importante per il calcio italiano soprattutto in questo momento storico che abbiamo pochi soldi e quindi poi le finali si possono anche perdere quest'anno ci sono andate male tutte quindi ci rimbocchiamo le maniche per l'anno prossimo. Il Napoli che impressione ti ha fatto quest'anno? Cosa ti ha colpito di più in questo percorso? Napoli è stata la migliore, ha giocato meglio di tutti, è stata la più forte di tutti e ha meritato il campionato per la qualità di gioco.